La voce di Stalin «Боящий граждане, дорогие сестры, бойцы нашей армии Депутра, к вам позвольте!» D'annullo il campionato, il campionato di Turema, nel nostro futuro, nel 22 Stelle, s'entrapevamo. D'annullo il campionato di campionato di Turema, e di la nostra regione s'entrapevamo. a questo momento Stalin riprenderà il famanno si reclutarono milioni di volontari si formarono intere divisioni subito gettate nel conflitto anche male armato dove saranno falciliati la battaglia forse più importante dirà Zhukov fu lo spostamento lo smantollamento lo spostamento di 1500 impianti industriali a oriente una battaglia di Zhukov non meno importante di nessun'altra della guerra direi che all'inizio nell'invasione dell'Ucraina i tedeschi erano stati accolti in certi villaggi, città con entusiasmo ma poi le loro affronci brutalità avevano provocato una reazione patriottica era riemersa l'anima patriottica dei russi che combatterono per tutte la guerra alle spalle dei tedeschi che si formavano le prime unità partigiate per mezzo potenziale umano della Russia che si espresse tutta la sua forza i spazi la quantità umana di forze Zhukov l'aveva tragicamente sottogabitata l'attacco a Mosca Hitler l'aveva chiamato operazione tifone fu lanciato il 6 settembre del 41 e Hitler gettò nell'attacco i due terzi delle sue forze corazzate dicendo che questa sarebbe stata la battaglia decisiva della guerra e avrà ragione anche se andò non come lui pensava Mosca si sentì attaccata subito e l'avanzata tedesca come sa chi ha visto a Mosca gli sbarramenti anticarro che arrivavano dall'aeroporto della città sa chi i tedeschi arrivavano alla periferia della capitale le truppe che andavano al fronte passavano dalla capitale stessa Stalin affidò la difesa a Zhukov una sua immensa statua e questa è molto bella è oggi davanti alla piazza rossa come a difesa del Cremlino in un momento critico il 17 ottobre fece annunciare la gente da paura che non nascerà Mosca Mosca fu salvata dall'arrivo delle unità simeriane sta all'impegna fino a ottobre che Mosca accadrà ma Zhukov lo rassicura e si arriva a due giornate straordinarie il 6 e il 7 novembre del 41 un inverno precoce estremamente rigido costerà la vita a molti civili ma aiuterà a salvare la Russia si decide di fare ugualmente le celebrazioni del 7 novembre invece che al Bolshoi al primo discorso del 6 Stalin lo pronuncia dalla metropolitana alla stazione Mayakovsky quello del 7 la parata militare avviene invece nella piazza rossa come sempre Zhukov il maresciallo Zhukov che poi emerge come grande trionfatore grande eroe nella guerra aveva assicurato a Stalin che poteva fare la parata con i tedeschi alle porte della capitale ricordiamo che il contrattacco russo scatterà il 6 dicembre e ricaccerà indietro i tedeschi di 100-300 chilometri distruggendo il mito dell'invincibilità nazista e infliggendo a Hitler la prima vera sconfitta ricordiamo anche che il 7 dicembre il giorno dopo l'arri il contrattacco russo i giapponesi attaccheranno per l'arri l'America entrerà in guerra in realtà da allora la sorte della Germania è segnata anche se per gli alleati ci saranno ancora molti disastri di nuovo nei discorsi del 6 e del 7 novembre Stalin farà un fortissimo appello al nazionalismo e all'orgoglio nazionale ricordando tutti gli eroi gli artisti gli scienziati della storia zarista e giurando che la Germania sarà sconfitta sentiamo un brano del discorso alla piazza russa in realtà come provo un curioso filmato che ora non siamo ma come in realtà si capisce anche dal trono stranamente passivo nella voce di Stalin queste le immagini di Stalin che parla non furono girate alla piazza russa furono girate queste immagini ma la decisione di tenere la parata era stata così improvvisa che i cameraman arrivarono in tempo per la parata ma non per il discorso di Stalin che dovete quindi ripeterlo un po' infastidito in cima a un finto mausoleo ripostruito dentro al cremlino gli stiamo a sentire un altro importante discorso di quei giorni è un intervento del patriarca Alessio la chiesa mettiamo in tempo di Roma a un'altra città in tempo appunto la piazza la seconda parte di questa puntata sarà dedicata all'assedio di Leningrano la pagina più gloriosa forse dell'epopea russa nella seconda guerra mondiale l'ingrano era la vecchia storica capitale ed era molto vicina al fronte questi sono filmati di parte nazista poi catturati dai russi era il primo inverno dei tedeschi in Russia da principio lo presero come un divertimento ma si sbagliavano sempre filmati nazisti attorno all'ingrado quasi completamente accerchiata la Wehrmacht aveva portato i cannoni più potenti che iniziarono un bombardamento che continuò ininterrotto per tutto l'inverno un inverno frigidissimo che era arrivato molto presto l'acquedotto gelò bisognava prendere l'acqua dal nevà o dai canali che solcano tutta l'ingrado ma si capì subito che il problema principale era la fame Hitler pensò che avrebbe conquistato l'ingrado per fame l'accertamento era quasi completo e in realtà in questa battaglia si dimostrò tutta l'eroismo il patriotismo del popolo russo che ne era rimasta una caratteristica costante e in questa battaglia si moriva per fame e per il freddo perché non c'erano mezzi, metodi di riscaldare ma nell'Inglado ricordiamo c'erano anche molte fabbriche importanti e bisognava continuare a farle funzionare gli operai rimasero nelle fabbriche, accampati nelle fabbriche lavorando, un fatto storicamente provato da 16 a 20 ore al giorno con estrema abnegazione lavoravano gli uomini e lavoravano le donne gli operai si rifiutavano di lasciare il posto di lavoro tutte le risorse ovviamente erano risparmiate per dare da mangiare e per dare quello che c'era di petrolio all'esercito che difendevala l'Inglado accenchiata si continuò a lavorare per la produzione bellica e si fecero nuove reclute, anche uomini anziani che partivano subito per il fronte sono volti che bisogna guardare quasi nessuno di loro sopravvivrà e per la produzione bellissima e per la produzione bellissima all'Inglado assediata senza riscaldamento, quasi senza cibo, si continuava anche a studiare in queste condizioni sul diario l'architetto Nikolski scrisse che aveva incominciato a pensare a un progetto di arco di trionfo per dare il benvenuto onore agli eroi ai futuri liberatori e nell'Inglado assediata Dimitri Shostakovich compose la sua celebre Settima Sinfonia Venne eseguita per la prima volta durante l'assevio diretta dal maestro Ilya Esberg i musicisti vennero richiamati dal fronte e c'è un episodio singolare che testimoniano le nostre immagini quasi 25 anni dopo la stessa orchestra eseguì la stessa sinfonia famosa sul palcoscenico all'inizio sedevano i musicisti rimasti in vita e in sala i superstis guardate perché sono soltanto donne superstiti degli spettatori che allora l'avevano ascoltato per la prima volta il volto di Shostakovich il volto di Shostakovich a Leningrado assediata dei rifornimenti arrivarono in modesta quantità per via era non bastavano certamente tutto il paese sostenne Leningrado assediata anche dai villaggi partigiani controllati dai partigiani alle spalle dei tedeschi si raccoglieva cibo facendo la fame per farlo arrivare per via segrete a Leningrado l'inverno che stava decimando la popolazione di Leningrado fu però anche la sua salvezza perché il lago la doga si ghiacciò e si aprì una nuova strada e rifornimenti sulla superficie ghiacciata del lago arrivarono i camion con gli aiuti arrivavano portavano cibo riportavano indietro le persone mai abbastanza fu chiamata la via della vita gli aiuti arrivarono non solo dalla Russia arrivarono ovviamente anche dai paesi alleati che rifornivano in quel periodo l'Unione Sovietica non solo di cibo ma anche e soprattutto di cambia ma di questo poi riparleremo un'altra volta Leningrado però non bastarono gli aiuti non potevano bastare all'inizio c'erano due milioni e mezzo di persone anche di più più c'erano le forze militari c'era la flotta che era rimasta bloccata sotto l'acqua per portare rifornimenti fu fatto passare un oleodotto queste sono immagini del Natale Natale Capodanno del 41-42 per Natale anche se in un rifugio anterio si organizzavano si organizzò una festa per bambini queste immagini volevano ridare coraggio i bambini furono tra le principali vittime dell'assedio della fame e dei bombardamenti si fecero grandi sforzi per mantenere in funzione le scuole le classi naturalmente non riscaldate le scuole che vedi le scuole le scuole Tutte queste immagini allora vennero mostrate. Tutte queste immagini allora vennero mostrate. Tutte queste immagini allora vennero mostrate. Il documento che ora vi mostriamo è del tutto inedito, non era stato mai mostrato in Russia perché è considerato troppo atroce e devo avvertire gli spettatori che contiene effettivamente immagini molto dure, molto impressionanti. Penso che non richieda molti commenti. Al mattino la città assediata si svegliava così, con in marcia piedi le strane, seminati di cadaveri. La cifra ufficiale dei morti di fame nell'inverlo del 41-42 all'Iringrado è di 641 mila, ma cifre più credibili parlano di 800 mila un milione di vittime. In alcuni momenti era rimasto cibo per appena uno o due giorni e il solo cibo distribuito era una talazione di pane, un atto di poca farina e cellulosa, di 125 grammi per i civili e 250 per gli operai. fu una ubissale bragegna. grazie ... Grazie a tutti. C'era chi raccoglieva al mattino i cadaveri ritrovati per le strade. C'era chi raccoglieva al mattino i cadaveri ritrovati per le strade. Il terreno, ricordiamo, era totalmente ghiacciato, anche se per i primi morti non era facile. Il terreno, ricordiamo, era totalmente ghiacciato. Il terreno, ricordiamo, era totalmente ghiacciato. Per poter seppellire i cadaveri si dovessero scalare con la dinamite fosse comuni dove furono sepolti centinaia di migliaia di corpi. Il terreno, ricordiamo, era totalmente ghiacciato. Il terreno, ricordiamo, era totalmente ghiacciato. di quello che fu il martirio e la gloria di Leningrado. Anticipando un poco sui tempi della parte finale della guerra, parleremo nella prossima puntata. Abbiamo voluto mostrare qui anche le immagini della liberazione di Leningrado, il passaggio dei prigionieri tedeschi attraverso la città. L'assetio era stato definitivamente spezzato solo dopo 900 giorni, nel gennaio del 1943. L'inverno precoce, estremamente rigido, costerà la vita a molti. civili ma aiuterà a salvare la Russia. Si decide di fare ugualmente le celebrazioni del 7 novembre. Invece che al Bolshoi, al primo discorso del 6, Stalin lo pronuncia dalla metropolitana alla stazione Mayakovsky. Quello del 7, la parata militare, avviene invece nella Piazza Rossa, come sempre. Giurgo, il maresciallo Giurgo, che poi emerge con un grande trionfatore, un grande eroe nella guerra, aveva assicurato a Stalin che poteva fare la parata con i tedeschi alle porte della capitale. Ricordiamo che il contrattacco russo scatterà il 6 dicembre e ricaccerà indietro i tedeschi di 100-300 chilometri, distruggendo il mito dell'invincibilità nazista e infliggendo a Hitler la prima vera sconfitta. Ricordiamo anche che il 7 dicembre, il giorno dopo il contrattacco russo, i giapponesi attaccheranno per l'arco. L'America entrerà in guerra. In realtà da allora la sorte della Germania è segnata, anche se per gli alleati ci saranno ancora molti disastri. Di nuovo agli discorsi del 6 e del 7 novembre Stalin farà un fortissimo appello al nazionalismo e all'orgoglio nazionale, ricordando tutti gli eroi, artisti e scienziati della storia zarista e giurando che la Germania sarà sconfitta. Sentiamo un brano del discorso alla piazza rossa. ... 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